I carabinieri della stazione Napoli Stella hanno eseguito un'ordinanza di custodia ragionare in carcere messa dal tribunale di Napoli su richiesta della locale procura nei confronti del 26enne AP già detenuto per altra causa. L'uomo è gravemente iniziato in concorso con un'altra persona ancora da identificare del tentato omicidio di un 31enne. I fatti avvenuti lo scorso 4 dicembre sarebbero stati compiuti con premeditazione e con l'aggravante del metodo mafioso per aver agevolato con il gesto il consolidamento del clan hegemone sul rione sanità. Le indagini effettuate con attività tecniche da parte dei carabinieri coordinati della procura partenopea sono iniziate due giorni dopo i fatti perché mai denunciati hanno permesso di appurare che l'oggiornale stato avrebbe incontrato la vittima in piazza San Vincenzo del rione sanità con un pretesto per poi roversciargli addosso della benzina e dagli fuoco. AP avrebbe commesso i fatti violando la misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto. L'aggredito soccorso dalla propria madre che spegneva in tempo le fiamme veniva ricoverato nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Carderelli di Napoli per ustioni di sedi multiple del corpo. Le motivazioni del tentato omicidio sarebbero riconducibili a dinamiche criminali locali ancora al vaglio degli inquirenti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari avverso cui sono emessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.